Evitare che una buona idea si tramuti nell'ennesima occasione persa. E' questo lo spirito che anima il neocostituito osservatorio indipendente per monitorare i lavori della Via Verde della Costa dei Trabocchi, il progetto di pista ciclabile che unirà in provincia di Chieti, vasto a San Vito, attraverso lo scenario unico della costa sud-abruzzese. WWF, Legambiente, FAI, Lipu, Mare Vivo, Italia Nostra e Altamura, assieme al Comitato Cittadino Salviamo le Morge di Torino di Sangro, vogliono alzare il livello di attenzione sul progetto che sta per partire per evitare speculazioni che rispondano a meri interessi particolari senza tenere conto del valore strategico a livello turistico dell'opera attesa da anni. L'osservatorio, aperto anche ad altre associazioni e a liberi cittadini, si pone come interlocutore nei confronti del soggetto attuatore del progetto da 8 milioni di euro, cioè la provincia di Chieti, e della regione a cui spetta la regia generale dell'opera infrastrutturale. Proprio a questi due enti, in attesa che venga varata la perimetrazione del parco della costa tiatina, si chiede di salvaguardare la vocazione turistica della Via Verde, che, come sottolineato dalla stessa provincia di Chieti, costituisce il brand turistico principale del territorio. Gli obiettivi sono quelli di garantire una corretta realizzazione di questa importante infrastruttura che permette un turismo lento, consapevole e rispettoso dell'ambiente. E quindi, per evitare danni al paesaggio, evitare ulteriori cementificazioni, perché la Via Verde può essere anche un pretesto per cementificazioni ulteriori, l'osservatorio vuole permettere ai cittadini organizzati in associazioni confluenti nell'osservatorio di partecipare al processo di realizzazione il più possibile corretto e rispettoso del progetto originario. La costituzione dell'osservatorio indipendente sulla scorta di quello avviato per l'acqua del Gran Sasso è stata accelerata dall'iniziativa dell'amministrazione di Torino di Sangro, che vorrebbe attuare una variante al progetto di pista ciclabile che sposti il tracciato fuori dall'area di risulta ferroviaria verso il lungomare. Ambientalisti e comitato Salviamo le Morge si dicono contrari e temono che ci possa essere l'ennesima cementificazione con strade, parcheggi e sottrazione di verde.